Oggi dirò un po' di vento e quindi avremo di sottofondo un po' di cicolini ma voi concentratevi solo sul massaggio, solo sui miei gesti A presto, a presto. Adesso ti massaggio un po' di più sulla parte dietro del collo Ho foderato questa candela con questi semi che io trovo molto rilassanti Ciao a tutti benvenuti o bentornati su Arasule SMR Oggi abbiamo con noi Naomi, io sono letteralmente incantata dai suoi capelli E quindi le diamo il benvenuto, anche lei ha appena aperto un canale su youtube Quindi vi lascerò in descrizione il link al suo canale Per cui cominciamo subito con il nostro video, con la nostra sessione di coccole Io comincerei subito proprio con accarezzare un po' questi capelli meravigliosi Tu Naomi rilassati e lasciati proprio andare Grazie a tutti Grazie a tutti Oggi dirò un po' di vento e quindi avremo di sottofondo un po' di ciccoli Ma voi concentratevi solo sul massaggio, solo sui miei gesti Se ti va adesso accendiamo qualcosina di profumato un po' di palo santo non manca mai nei miei video ci mette un po' ad accendersi di solito lo conosci? ti piace? spero, nemmeno male adesso lo lasciamo andare ho foderato questa candela con questi semi che io trovo molto rilassanti adesso vado a raccogliere un po' i tuoi capelli aspetta perché sono tantissimi e non te li voglio tirare se ti fanno male o se ti tirano dimmelo oggi voglio riportare un trigger che non porto da molto ovvero la piuma e quindi cominceremo prima del massaggio con l'olio a fare qualche coccola con la piuma tu dimmi se la trovi piacevole o se ti dà fastidio all'interno e quindi anderece Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso spruzzo un po' di profumo al pensoino. Ti piace? Ok, adesso favoriti un po' dallo spray al benzoino facciamo un po' di accarezzamento dell'aura e di sbriciolamento di eventuali energie negative. Ok? 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 Tenendo la ciotola. Tenendo la ciotola. Tenendo la ciotola che si prestava e quindi vado con la lavanda perché il bergamotto è fotosensibilizzante. Quindi andiamo di lavanda. Grazie. E adesso con il pennello vado a spandere l'olio con cui ti massaggerò un po'. Grazie. Grazie. Con le mani un pochino fredde. Se senti il bisogno di appoggiarti appoggia la testa. Se invece stai bene in piedi fammelo sapere. Se senti bene così. Perfetto. Grazie. 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 clausesri. Grazie. Grazie. achtenigli. Dimmi se ti da fastidio o? No. No. Adesso ti massaggio un po' di più sulla parte dietro del collo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, per concludere ci giriamo di nuovo davanti. Bene. Adesso terminiamo con qualche trigger sonoro. Dimmi se lo senti piacevole. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E un altro trigger che a me piace molto è questo. Grazie a tutti. 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 Chiudiamo con un po' di salvia bianca. questa? Questa la conosci? Quale preferisci? questa? Salvia bianca? sono più le ragazze? Sono più le ragazze che vengono da me che preferiscono la salvia bianca al palo santo. io invece preferisco un po' di salvia bianca al palo santo. è un po' di salvia bianca al palo santo. bene tesori. bene tesori io vi ringrazio per la compagnia e spero che Naomi si sia rilassata. nonostante sia stata una sessione un po'... nonostante sia stata una sessione un po' travagliata. e spero che tu voglia tornare. Certo. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo di essere stati qui. Mi raccomando un like, un commento e andate a vedere anche il canale di Naomi. Ciao tesori. Ciao. Ciao.